L'amicizia tra i bambini e i cavalli è la base della filosofia dell'associazione sportiva dilettantistica Le Puleselle, luogo lontano dalla città emerso nella natura. Qui i bimbi possono vivere in piena libertà il cavallo e il pony, partecipando a corsi mirati in base alle proprie esigenze, compresi coloro che hanno delle disabilità fisiche e psichiche. Le gare e le competizioni causano spesso stress tra i minori che effettuano degli sport, sono ben lontane però dalla concezione di attività delle Puleselle. Inoltre durante l'estate l'associazione offre la possibilità di partecipare al campo estivo, esperienza meravigliosa per i più piccoli che hanno la possibilità di trascorrere l'estate a contatto con gli animali. La nostra specialità sono i centri estivi per i bambini in cui diamo la possibilità di fare delle attività ricreative, dei laboratori creativi, poi facciamo un avvicinamento al cavallo, gli insegniamo ad andare a cavallo sia i più piccoli con i pony che i più grandi con i cavalli e poi durante l'anno oltre alle lezioni di equitazione e di psicomotricità con i pony per i più piccoli facciamo anche dei progetti. Questi progetti sono principalmente legati ai bambini dai 3 ai 6 anni e poi facciamo anche dei progetti con le asine e anche all'occorrenza se ci sono anche dei ragazzi disabili noi accogliamo anche loro e anzi proponiamo un'integrazione quindi cerchiamo di rendere il tutto più diciamo normale possibile. Diverse sono le esperte che collaborano nell'associazione e offrono il loro contributo nei corsi per bambini non solo con i cavalli e pony ma anche con gli asini per progetti specifici rivolti a differenti problematiche o esperienze nonché avventure speciali nel bellissimo parco dell'Oglio. Sono qui alle Puleselle con le mie collaboratrici Amaltea e Crusca che sono le mie asinelle con cui organizzo delle attività rivolte a tutti bambini, adolescenti, famiglie, adulti, chiunque voglia vivere un'esperienza in natura a contatto con l'asino può richiedere e fare una richiesta personalizzata oppure partecipare a una delle tante attività che proponiamo. Che attività proponete ad esempio? Noi abbiamo molta fantasia qui alle Puleselle per cui si va da attività di tipo didattico educativo per cui magari anche esperienze occasionali, visite di scuole o persone che vogliono conoscere l'asino per cui si spiega un po' che tipo di animale è, da dove arriva, qual è la sua storia evolutiva, qual è il suo linguaggio e poi si interagisce con l'asino. Però poi in base alla richiesta, al bisogno si costruiscono dei percorsi personalizzati per cui tenendo conto che la finalità è sempre produrre benessere e quindi fare in modo che le persone arrivino a casa con una sensazione di pace, di tranquillità ma anche di aver imparato cose nuove, magari aver scoperto anche nuove abilità, aver provato nuove emozioni, magari un pochino di autostima in più. Ecco, tenendo presente questo poi ci si può focalizzare di più su un'esperienza di tipo emotivo relazionale, per cui come accade adesso, quindi imparare a entrare in contatto con l'asino e interagire con lui oppure per chi ha un bisogno invece di tipo, diciamo, motorio o psicomotorio ci si focalizza di più su attività legate alla concentrazione, l'attenzione, la costruzione di percorsi, la conduzione, nonché anche di passeggiate nel Parco dell'Oglio a ritmo lento di asino. C'è un bel progetto in programma, in previsione con i ragazzi proprio in mezzo a questo parco? Sì, allora ti riferisci al progetto Avventura in Natura, è un progetto nuovo che è nato dalla collaborazione con Cristina e si tratta di far vivere ai ragazzini delle scuole elementari un'esperienza avventurosa legata alle competenze che servono per la sopravvivenza in natura, per cui in compagnia delle asine impareremo come si costruisce ad esempio una capanna, come si fanno i nodi di emergenza, come ci si orienta, come si accende il fuoco e a conclusione di questa esperienza ci sarà una vera e propria avventura con un trekking nel Parco dell'Oglio. Tutto ciò, e questo ci tengo molto a dirlo, che porta i ragazzini, i bambini al di fuori del piccolo schermo dello smartphone è qualcosa che li arricchisce, perché comunque sono competenze che noi abbiamo e dobbiamo coltivare. Quindi ampliare gli orizzonti, imparare a capire che c'è uno spazio più grande, che ha un sopra, che ha un sotto, che si possono utilizzare tutti i sensi e che c'è anche un ritmo diverso da quello che è quello della quotidianità o dei 10 secondi di TikTok, quindi un ritmo molto più lento e molto più in linea con gli esseri viventi. È qualcosa che sicuramente non solo fa piacere, ma aiuta anche lo sviluppo. Oltre a Cavaglio e gli Asini, le Puleselle offrono la possibilità ai più piccolini di poter vivere momenti magici assieme ai due poni della scuderia, Silvietta e Gerry, ottimi amici per affrontare alcuni progetti sportivi. Voi avete un progetto ben preciso che si interseca con le vostre due figure? Esatto, ne abbiamo due. Uno è la Pony Agility per i piccolissimi dai 3 ai 6 anni e l'altro è Pony Rangers dai 7 anni in su. Ti racconti un pochino come si svolgono? Allora, Pony Agility abbiamo pensato di dedicarlo ai bambini più piccoli per ampliare l'offerta formativa del nostro centro e è un progetto che si divide in due parti, la parte a contatto col Pony e la parte invece prettamente di giochi motori che segue Cristina. Abbiamo deciso di strutturarlo in questo modo perché l'ottica del nostro centro non vede il Pony o il cavallo solamente a scopo agonistico o di sport. Per noi il cavallo è proprio un compagno di giochi e un compagno di viaggio. Quindi quando ci sono le attività del Pony che seguo io con i piccoli si impara la conduzione a mano, si impara a salire e a scendere, sono tutti giochi propedeutici che aiutano il bambino a sviluppare il proprio sé, le emozioni, ad interagire con un animale vivo, lo aiutano a sviluppare l'equilibrio, la confidenza con l'altro animale. Quando invece c'è la parte motoria fanno giochi appunto per sviluppare la psicomotricità sia legata all'ambito del Pony sia legata alla quotidianità, proprio all'interezza del corpo del bambino. Ecco, ci racconti meglio questo aspetto. Allora, come i bambini affrontano tutti quelli che sono gli schemi motori di base, le coordinazioni specifiche e specifiche. Quindi andiamo ad effettuare dei lavori a livello coordinativo sia compensativi, che a cavallo non si possono fare, che serviranno poi nella vita di relazione. Con i più piccolini ovviamente lavoreremo solo sugli schemi motori di base e così cercheremo di mettere insieme un bambino che sia in grado sia di fare attività equestre che attività da terra. I bimbi più grandi invece affronteranno tutte quelle che sono le attività legate all'aria aperta. Quindi come ci si orienta nel bosco, come si utilizza la bussola, come si può costruire un bivacco di fortuna, sempre incentrato sulla gita a cavallo, mi perdo con la gita a cavallo e so fare delle cose per poter sopravvivere.